si da studio camorrina ben ritrovati mi trovo all'hotel open 11 a torino sono scorcio che si vede dalla mia camera esserò qui due giorni il tempo di finire le lezioni e poi ripartirò per palermo e poi di salire a torino la prossima settimana sempre di martedì è stata una giornata ragazzi illuminata ma nello stesso tempo anche molto distruttiva tutto è cominciato molto presto sono le 19.30 ho appena finito di pranzare proprio adesso sono veramente entusiasmato di questa esperienza in questi ragazzi spesso mi chiedo cosa gli dirò riesco a capirlo solo quando parlo con loro di bramo dei dei pensieri di coltivo ma poi il risultato finale sia sia soltanto nel parlare con loro no ti ricordo che è questo hotel è qui a torino ed è in corso venezia 11 vintero spesso aggiornati un saluto da studio camorrina dell'hotel open 11 ciao